Musica Conferenza stampa di fine anno del presidente Tommaso De Simone, capo della Camera di Commercio di Caserta, un report economico sulla situazione attuale e lo stato di salute della provincia di Caserta. Presidente, luci e ombre, quest'anno secondo lei è più positivo o è più negativo il bilancio rispetto agli anni precedenti? Guardi, c'è un dinamismo imprenditoriale incredibile in un momento di crisi come quella globale che dal 2009 ci sta attanagliando nel mondo occidentale e non solo. E nel mezzogiorno d'Italia in modo particolare a Caserta il mondo delle imprese continua a dimostrare di avere un dinamismo incredibile. Nascono più imprese rispetto a quelle che cessano, nascono imprese di giovani, nascono start-up innovative, quindi che coniugano al proprio interno oltre che l'età, anche l'innovazione che è una grande leva per reggere la sfida con il mercato globale. Quindi veramente è un territorio ricchissimo, ricchissimo di talenti che si cimentano nell'intraprendere. I numeri evidentemente segnano comunque delle ombre come quelle sul credito, che è uno degli elementi di mancato sviluppo. La raccolta in provincia di Caserta, secondo Banca d'Italia, vale quasi 14 miliardi di euro, l'impiego 6 miliardi e mezzo, quindi il 50% di quello che viene raccolto è rimpiegato all'interno dei percorsi economici, quindi delle imprese, ma anche dei consumatori. Non è un elemento di positività, c'è bisogno di un intervento normativo da questo punto di vista, perché non si può continuare a intraprendere, a fare impresa quando non si ha la possibilità di accedere al credito. È evidente che però quasi 120 mila imprese del territorio casertano continuano a dimostrare di avere una gran voglia di guardare al futuro con speranza, creando momenti di occupazione, creando dei percorsi virtuosi. Il nostro export continua a mantenere, nonostante abbiamo delle condizioni infrastrutturali non eccezionali, significa che però è un territorio che potenzialmente ha ancora tantissime cose da fare. L'elemento del turismo, che è uno degli elementi portanti nell'ultimo periodo, ha possibilità di sviluppo incredibili. Il nostro principale altrettore, che è la Reggio di Caserta, registra dei numeri importanti. Quest'anno paradossalmente anche la nostra costa ha registrato un numero di presenze importanti all'interno delle strutture ricettive del litorale. Noi abbiamo 42 chilometri di costa, quindi un altro elemento di positività. Esistono dei settori che vanno meglio, però abbiamo necessità anche di avere delle certezze normative, o meglio, un quadro normativo che riesca ad assecondare quelle che sono le vocazioni di un territorio ed accompagnare il territorio in un periodo post-crisi e quindi guardare la luce oltre i tunnel. Proprio sulle due tematiche principali che le toccava, turismo e credito. Su questo c'è un ritardo ormai storico della politica, mentre noi lo rimarchiamo sempre dall'avvento di Desimone alla guida della Camera di Commercio notiamo che gli operatori economici sono molto più avanti. Ma insomma la politica concretamente, uno, sono provocatorio per chi non si muove e continua ad essere così lenta e due, che cosa potrebbe mettere in campo al di là delle leggi che forse in Italia ne teniamo pure già troppe? Non è il problema di Desimone o non Desimone, eccetera. È un mondo delle imprese che ha voglia di guardare al futuro. Quindi è quel mondo che noi semplicemente raccontiamo come osservatorio delle dinamiche economiche del territorio. Abbiamo la necessità, lo dicevo prima, che inizi un confronto con la politica. Inizi un confronto dove non è possibile più pensare a un paese, che è il nostro paese Italia, che ha una differenza nella realizzazione di PIL, con un PIL nel nord del paese che cresce con numeri diversi rispetto a quello del Mezzogiorno d'Italia. Questo effetto elastico non porta bene a nessuno perché prima o poi l'elastico si accorcerà le distanze. Quindi il paese Italia perderà competitività nei confronti della nostra Europa, nei confronti del mondo occidentale, dove volgiamo lo sguardo ovviamente per i percorsi di crescita economica. Noi abbiamo necessità che inizi un confronto, mettendo al centro le grandi opportunità che sono date dal Mezzogiorno d'Italia e non continuare ad assistere a questa fuga di cervelli per quanto riguarda i giovani laureati che vanno via e che non hanno neanche la possibilità poi di rientrare col bagaglio di esperienze che hanno fatto in altre parti del mondo. Svimez ha misurato la crescita di PIL relativa ai nostri giovani laureati che avevano vissuto in altre parti del nostro paese e che hanno contribuito a far crescere nella Lombardia, nel caso che citava Svimez nel rapporto di qualche settimana fa, hanno fatto crescere il PIL. Noi abbiamo necessità che questi giovani menti ritornino sui nostri territori, altrimenti il destino della nostra provincia di Caserta, ma del Mezzogiorno d'Italia, sarà un destino segnato e molto probabilmente questo destino segnato trascinerà il nostro paese Italia in percorsi poco piacevoli. Abbiamo quindi la necessità di un grande confronto con la politica, con il governo, con il Parlamento per valorizzare al meglio quelle che sono le nostre grandi eccellenze, che non sono solo agroalimentari, ma grandi eccellenze anche in termini di capacità di utilizzare il nuovo. Abbiamo realizzato all'interno di una piccola riflessione, di un piccolo progetto di Camera di Commercio, un progetto di tracciabilità utilizzando la blockchain, che è quella delle criptovalute, portandola su un prodotto antico che è la seta di San Leuscio. Abbiamo realizzato delle palle di Natale che sono tracciate, quindi sappiamo chi ha prodotto il tessuto, chi è stato l'artigiano che ha realizzato la palla. È un sistema esportabile per superare anche quel falso made in Italy, quindi che o falso made in Caserta, nel mondo si vendono due mozzarella su tre, racconta col diretti, sono false. Se riusciamo a recuperare una delle due mozzarella abbiamo creato un momento economico importante, di possibilità per il nostro territorio, che buona parte della mozzarella di Bufala Campana è prodotta in provincia di Caserta, quindi veramente abbiamo la possibilità di guardare al futuro con speranza, certamente in un quadro normativo che ci consenta di utilizzare e valorizzare al meglio il nostro territorio. Un breve augurio a tutti gli iscritti alla Camera di Commercio di Caserta per il 2020. L'augurio alle imprese del territorio casertano è quello di continuare sulla strada fino a una percorsa, provando a mettere ancora una volta in evidenza le grandi capacità sia degli imprenditori che delle eccellenze di questo territorio, facendo sì che già dal 2020 si possano creare le condizioni di una nuova primavera casertana.